Buongiorno a tutti i tuoi fattini della terra che è solo in Italia ma a dettagli andiamo avanti niente convenevoli vediamo di riuscire a fare in fretta queste prove a tempo per accedere a altri livelli successivi sotterranei via allora volevo ringraziare tantissimo vi posterò anche il link dei loro canali qui sotto vaffanculo iniziamo proprio bene volevo ringraziare gli utenti Octavian Hero e Lorigno96 che sono stati così gentili da fornirmi la listina con i tempi da fare quindi Lorigno e Octavian Hero grazie mille me l'avete fornita quasi in contemporanea vi volevo ringraziare tantissimo perché mi è utilissima Burdega quindi aspettate un attimo che adesso non ho tempo di guardare però mi pareva di aver guardato prima che per fare questo livello dovesse fare attorno ai un minuto e cinque può essere eh ve lo dico adesso perché sono morta aspettate ecco un minuto cinque e novanta fattibile direi se non muoio magari ce la posso anche fare prima le dimentichiamo pure casse coi secondi che sono inutili un minuto e cinque dai non è così complicato dovrei riuscire a farcela se questo con le emorroidi non mi ammazza facciamo riniziare burdega ma nooo perchè andiamo avanti ma vai a cagare però angtura una di merda fanculo inizio già bene la mattinata già problemi al primo livello del secondo mondo già la vedo bellissima sta giornata in sta parte so già che la dovrò intitolare epic fail se continuo così si se mi blocco anche mi faccio incantonare dalle rane grazie al cazzo che riesco a finire il livello dai non mi ricordo quanto manca alla fine del livello onestamente però ah una quacu perfetto prendetevela nel culo tutti stronzi uno per uno se mi prendi il tempo magari però che è quello che mi interessa di più grazie corri crash corri ma no bloccarti dai ce la faccio arrivare lì 10 secondi 5 secondi oddio 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 si tua madre zoccola fa fa chi è ce l'ho fatta il primo platino è andato ok primo livello è andato oddio in questo mondo c'è quello della moto eh vabbè faccio quello che posso comunque ciao a tutti ragazzi spero che stiate bene io sono stanca morta arrivo i weekend che sono fracassata e c'è tanta voglia di durmi e mi dispiace anche dedicarvi meno tempo ma purtroppo devo lavorare cioè lavoro è l'unica cosa che sto delirando l'unico giorno che posso dedicare alle registrazioni è il sabato e la domenica per forza allora qua iniziamo bene non riesco neanche a saltare sui trampolini allora per questo livello è stato stimato un tempo di 43 secondi 80 vediamo se ce la facciamo e iniziamo già male perché ho perso la quaku e se non ricordo male qua anche qua me ne servivano tre per andare più veloce anche perché tutto sommato 43 secondi ci sono anche pochi andiamo avanti questo qua l'ha scivolata allora ah è vero grazie per l'illuminazione allora cazzo sono già 20 secondi dai non bloccarti per diana ma non ci credo dai no porca troia direi che porca troia ancora allora direi che è il momento di darci un taglio e finirlo sto livello no finirlo perché mi sono rotta il cazzo e sarei grata se porca di quella cicciona troia riuscissi a finirlo sto cazzo di livello ah cazzo sarà 20 minuti che ci sono dietro ma il fatto che cioè riuscissi almeno a prendere il doro lo zaffero non riesco nemmeno a finire livello perché cado ah cazzo lo so a memoria ormai cazzo vedrete con i livelli d'acqua e questi non sono niente in confronto dai su dai dai fatemi finire sto livello magari anche col platino così non lo devo più rifare attenzione tu che mi hai inchiappettato prima pezzo di merda dai che ce la faccio dai 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 dopo 20 minuti di tragico esaurimento nervoso ce l'ho fatta Oh, non ci credo, mi ando a piangere Sì, dovrò fare una parte solo con sto cazzo di livello, ma dettagli Boh Funky Oh, il livello della moto, no Tutto va questo, no Allora, vediamo un po' Allora, qua il trucco in tutti i livelli della moto è prendere la rampa E non staccarsi mai, cioè stare sempre in impennata E penso che qua dovrò allenarmi un pochettino Perché io non riesco già a gareggiare normalmente con le moto figure A prendere il tempo Ma di questi livelli qua li facevo sempre fare a mio fratello No Ah, però era fattibile a prendere il tempo Aspetta, dai Diciamo da inizia Vediamo se sono fortunata Ai primi livelli di gioco Una volta mi spariva anche il cronometro, a volte Nei livelli delle moto Quindi dovevo uscire, rientrare Sperare che comparisse il cronometro Boh, vediamo un po' che riusciamo a fare Tieni la terapata Sì, dai, 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 dai Dai, 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 dai Tienila, 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 tienila Nooo, cazzo Vabbè, basta, dai, 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 dai Mi allenerò più avanti Però dai è fattibile Non era così difficile come mi ricordavo Vediamo che tempo faccio Ma no, peccato Il platino Era 35-03 Eh, due secondi Non è che siano proprio pochi Però adesso mi ci sono avvicinata e sono già Allora, vediamo un po' però Come mi chiamo Cane Molti di voi capiranno cosa intendo ma Va bene Così, va bene così Senza che aggiunga altri dettagli Allora Anche questo è fatto Non voglio che esulti per le reliquie Ma soppiale di merda Allora, questo era quello della tomba Tempo stimato per il livello È 53 secondi e 90 Vediamo subito se è fattibile O dovrò bestimmarci dietro Vediamo un po' Il crocrodillo È ben cool Tomare roia Che takuna Che takuaga Boh Via Cronometro Boh Vediamo un po' che combiniamo Non c'è un livello che abbia fatto liscio Senza morire in sto mondo E l'ultimo se non ricordo male È quello della tigre E voglio vedere quante volte muoio là Allora qua Facciamo una scorciatoietta Boh Foditi scimmia dei miei coglioni Oh Fanculo Fanculo Tua madre Tua padre Incoglioniti dall'alcol No io questo mondo qua non ce la farò mai a finirlo Il cronometro Ce la farò mai Allora Questa parte qua iniziale Lasso bene Questo cazzo Liquame liquido Liquame liquido E voi mi direte No è inchiostro No io vi dico È l'etame Liquame Ok basta Mi concentro No No Ma no No Ma no Ma no Com'è possibile una roba del genere Allora Allora Vediamo un po' Dai su Eh ma se non mi fa il doppio salto Marsuppiale di merda Non è che posso farci granché No 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 A ver che mi fai questo No 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 Ma perché mi blocco sempre a sto punto qua di sto masso? Mi chiedo io Perché? Fanculo la cuacqua Adesso non mi ferma più nessuno Coglioni Se ti chiudi porta ti inculo Se non mi fai il doppio salto ti inculo No dai bravo Non so se ce la faccio Dai 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 No Ah peccato volevo fare reinizia Per un pelo nel culo anche qui Era 53,90 Eh vabbè Sti cazzi Pippami sta minchia Lo rifarò dopo Oh santo cielo Santa pazienza Bon siamo arrivati all'ultimo livello del secondo mondo Si ha ringraziato il cielo Si ha veramente ringraziato il cielo E qui devo fare 18,90 per il platino Onestamente mi piace di più il livello della tigra nel primo mondo Eh già salto il tempo Iniziamo già bene Ma proprio bene Ma proprio bene bene Eh salto il cronometro Iniziamo proprio bene Ma proprio bene bene Ok sto già cominciando a incazzarmi Ma di brutto anche Ma di brutto 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 Allora vediamo un po' Allora vediamo un po' Rimemorizzare dove sono I tempi Che slalom da maestro Eh ma ho saltato un 3 per forza Adesso perché Il tempo Mi ha fermato l'orologio per troppo poco tempo Quindi vuol dire che l'ho mancato miseramente Allora devo fare pratica a questo livello Allora vediamo un po' Ok più scherzi due Nooo ma prima ce l'ho fatta Il primo colpo Nooo A me sta venendo l'esaurimento nervoso Mi sa che ho finito sto livello Però oggi basta Perché sono a pezzi Stremata Straparlo E sono una vera e propria nuova a giocare Lascio il lavoro E torno a fare la let's player Eh vaffanculo Tua madre Le fù Le fù Ma nooo Perché Vado Spero che ti si afflasci il bene Durante il colto Guarda Spero tanto Oddio è una frase che non ha molto senso Ma dettagli Non ha per niente senso Perché Ma ce l'ho fatta il primo colpo A passare in mezzo a quei due coglioni Dai Che ho la quacu Eh va a cagare Merda Nooo Eh alee E' una serie Saltiamo mille tempi Ma vai a cagare Tu e tua suocera Putridita Putridita Uffa Perché 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 mi fate questo Perché Ma vai a cagare Porca troia Basta Ne ho le palle piene Ma straripano proprio Eh va a cagare Senti Adesso mi sono rotta il cazzo Finisco sto cazzo di livello Prendo lo zaffero Prendo L'oro Prendo il plasma Non mi prendo un cazzo Perché mi sto nervosendo E quando sono nervoso Non combino una minchia Combino proprio Un'ostia Oh Dai Su Ma va a cagare Beh va a fampuro Finisco il livello Va in pure Ma si ma è fattibile Sai che finga sono cogliona Eh vabbè Eh vabbè Basta Per oggi basta registrare Perché veramente Sono Noob Sono rincoglionita Ed è meglio che la smetta qua E allora un bel titolo Anche qua Anzi no Cambiamo tipologia Oh questo si è il dice di più Boh Ehm Basta dai Interrompo qua a registrare Perché sono rincoglionita Sono Una noob Completa E veramente Faccio cagare oggi Non c'è tanto che tenga la roba che ho registrato Alla prossima parte Ciao Ciao ciao